Ciao a tutti, se noti questo, di te non ne vuole sapere. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento. Abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Adesso veniamo al tema, se vedi questo, di te non ne vuole sapere. Ti ricordo inoltre però un'altra cosa importante, che se ti iscrivi a tutti e quattro i miei canali, crescita personale, Massimo Terramasco, felicità benessere, amore autostima, potrai entrare intanto a far parte della più grande community europea per quanto riguarda, anzi italiana, diciamo così, per quanto riguarda l'amore, la seduzione, la crescita personale e potrai inoltre fare parte, diciamo così, di chat dove conoscere persone nuove, il tutto completamente gratuito. E adesso notiamo a... se noti qui... torniamo al tema, se noti questo, di te non ne vuole sapere. Allora, sono dei segnali non verbali che indicano che di fatto non gli interessi, che indicano che di fatto non ha un coinvolgimento, non ha assolutamente un coinvolgimento con te purtroppo e quindi da questo punto di vista dovresti fartene una ragione perché altrimenti rischi di prendere, come si dice, l'ucciole per l'anterna e rischi di non essere, diciamo, allineato e non avere, come dire, la possibilità di poter cambiare perché notare questi comportamenti ti dà la possibilità di poter modificare, poter cambiare atteggiamento, poter cambiare comportamenti e ottenere dei risultati positivi perché non devi mai prendere il rifiuto come un rifiuto alla tua persona, come un rifiuto, diciamo, totale, completo alla tua persona, ma il rifiuto è sempre collegato al, diciamo, al non essere gradito come comportamento. Per cui, quali sono questi segnali? Beh, ad esempio, quando tu ti avvicini, magari l'altra persona, sì, ti parla, ma tende ad allontanarsi. Questo ti dà anche un'indicazione del fatto che è una persona che comunque non devi inseguire, una persona che comunque non devi stare appresso eccessivamente perché se gli stai appresso eccessivamente tende a sganciarsi. Un'altra cosa è che tende a chiudersi in se stessa, tende ad incrociare le braccia, a mettersi giù, a guardare da altre parti. Un altro segnale veramente, dove di rifiuto veramente forte è il disgusto. Quindi quando ti vede, tende a fare un arricciamento di naso in questo modo, che è proprio un segnale di disgusto. Ecco, se noti questo, beh, sicuramente di te non ne vuole proprio sapere. Sebbene, diciamo, tu sia magari una persona piacevole per altri, non significa ognuno, diciamo, si comporti in modo completamente diverso. Ad esempio, un'altra cosa è il fatto che la persona quando ti vede tende a spolverarsi in questo modo. Eccolo, spolverarsi in questo modo significa non ne voglio sapere. Oppure tende a raschiare, tende a toccarsi il naso, a grattarsi dietro, a fare leggeri movimenti indietro, sono tutti segnali che ti stanno dicendo che veramente di te non ne vuole sapere. Oppure, mentre parla con te ogni tanto guarda l'ora, questo indica che non vede l'ora di andarsene via. Altra cosa, punta i piedi in un'altra direzione. Quando siete seduti, a cavallo alle gambe, puntando il piede nella direzione opposta alla tua. Ecco, questi sono tutti segnali che ti fanno capire di fatto che di te comunque non ne vuole sapere. Di te comunque non è coinvolto. Ecco, questo o non è coinvolto, questo è... devi tenerlo presente. Quindi, quando noti questi segnali, devi cambiare atteggiamento, devi cambiare comportamento, perché magari cambiando comportamento potresti ottenere veramente il risultato opposto e potresti ottenere veramente il risultato invece di gradimento. E poi il gradimento te lo spiegherò con ulteriori segnali. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto mettete un like, iscrivete al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonando ti potrai partecipare a deposite... potrei scegliere tra tre livelli di abbonamento. Abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, videoregistrazioni seminari da vivo, abbonamento Master Consulting, con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!